Con il passare del tempo le cellule della pelle, i fibroblasti, rallentano le loro attività. Di conseguenza si riduce la produzione di collagene, elastina, acido ialuronico e glicosaminoglicani, sostanze fondamentali per mantenere la pelle giovane, tonica ed elastica. Con il passare del tempo rallenta anche il microcircolo e pertanto si riduce il trasporto di sostanze nutritive alle cellule. Il risultato visibile è una pelle più spenta e, spesso, capillari rotti in superficie. Altri elementi coinvolti nell'invecchiamento cutaneo sono i radicali liberi, l'esposizione senza protezione ai raggi solari e la carenza di estrogeni tipica della donna in menopausa, che contribuisce alla disidratazione e a ridurre il film idrolipidico che protegge la pelle dall'aggressione degli agenti esterni. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top, prodotto dall'Ital Press, Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del gruppo San Donato. Si parla di picotage perché con questo metodo si interviene sulla causa principale, forse più importante dell'invecchiamento della nostra pelle, vale a dire la perdita di elasticità. Sai, a 20 anni quando smettiamo di parlare e di sorridere la pelle impiega mezzo secondo a spianarsi, a 60 anni la pelle impiega 3 secondi, quando io sollevo oramai la pelle dalla mia mano ci impiega più di 3 secondi. E' questo che determina soprattutto l'invecchiamento, quindi mantenere un viso giovane vuol dire far di tutto per migliorare l'elasticità e il turgore. Il picotage va in questa direzione. Cioè si parte dall'elasticità e il turgore per mantenere la giovinezza. Perfetto. Quindi forniamo l'elasticità e il turgore. Esatto, questa è poi la giovinezza naturale che c'è in ogni età, che noi dobbiamo valorizzare, ed è quella vera, ecco, insomma, la vera giovinezza. Altrimenti poi il rischio è quello di creare o di deformare un po' dei visi. E quindi come dermatologo io 30 anni fa, cominciando a studiare l'effetto dell'acido ialuronico, soprattutto un acido ialuronico naturale, quello che utilizziamo in laboratorio per far crescere le cellule cutanee, capì che poteva essere estremamente importante per rigenerare le cellule. Quindi rigenerare le cellule vuol dire favorire il miglioramento dell'elasticità e del turgore. La cosa importante che ha determinato poi l'importanza di questo metodo, di questo picotage, è aver capito che l'acido ialuronico doveva essere iniettato a un millimetro di profondità. Ecco, vediamo, osserviamo questa fotografia, Antonino. Commentacela un po', esatto. La nostra pelle ha circa un centimetro di spessore, che è questo che stiamo vedendo. La parte più superficiale, l'epidermide, quella più chiara in alto, poggia sul derma in profondità. Ecco, a un millimetro di profondità, quando noi guardiamo la pelle al microscopio, vediamo le cellule molto sofferenti, perché lì i raggi luminosi arrivano e distruggono la parete, queste cellule. L'acido ialuronico deve quindi essere messo lì, a un millimetro di profondità, per riparare, rinforzare, rigenerare quelle cellule sofferenti e metterle in condizione di produrre più collagene e più elastina.